Salve e benvenuti, io sono Federico ed oggi voglio parlarvi come al solito di un nuovo prodotto però non si tratta questa volta di un escavatore, una pala o un damper, sì perché non è un prodotto che abbiamo venduto noi ma questa volta un prodotto che abbiamo acquistato si tratta di un bellissimo e nuovissimo furgone, di cosa sto parlando? Il Renault Master vi chiederete perché abbiamo comprato un nuovo furgone, perché avevamo la necessità di aggiungerne un altro alla nostra flotta di carri-officina bene, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vederlo insieme Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, prima di andare avanti Giusto due considerazioni tecniche per cui abbiamo scelto questo prodotto piuttosto che un altro Prima di tutte la motivazione tecnica migliore di tutte è che mi piace tantissimo Seconda motivazione tecnica è il motore Ragazzi qui parliamo di un motore 2013 cilindrata biturbo per la bellezza di 145 cavalli Potenza da vendere Ragazzi questo qui è un mostro e va benissimo Però lo proveremo anche su strada Altre informazioni tecniche abbiamo scelto la configurazione L1 H1 perché per le nostre necessità è quello che andava meglio Andiamo avanti Bene, uno sguardo l'insieme l'abbiamo dato Ora non ci rimane che andarlo a personalizzare fuori con le nostre belle grafiche e dentro con tutti gli strumenti e gli accessori che serviranno ai nostri tecnici per andare a fare gli interventi in esterna Che dire, guardiamolo insieme Che dire, guardiamolo insieme Che dire, guardiamolo insieme E fare un piccolo giro per provare le sue performance e poi ovviamente mandarlo a lavorare Come sempre vi saluto e vi aspetto qui al prossimo video Ciao Che dire, guardiamolo insieme Che dire, guardiamolo insieme Grazie a tutti